di Natale, i vostri messaggini, così ci possiamo augurare una buona notte in maniera molto pari, secondo me. E poi ci voglio guida proprio la notte, giusto il tempo di leggere i messaggini. Me li sono scaricata sul... qualcosina è scritto, tranquillo. Allora, me li salpi salvati. Non si vede nulla, non si vede nulla, posso far così. Allora, abbiamo il messaggino di Ghaz. Non si vede nulla, non leggete un cavolo e va bene così. Leggete solo il messaggino. Abbiamo il messaggino di Ghaz, di Ghaz, scusami, del nostro maggiordomo Winson di fiducia, che ci dice tantissimi auguri di Buon Natale che dicono, oh, grazie tesoro, grazie mille. Allora, il tempo il ritardo dopo perché me l'ha fatta scaricare al ritardo, che palle. Tipo ieri l'ho scaricata, giusto in tempo. Abbiamo Gerardo, Michio L'Itale. Buonasera, sono Michio L'Itale CR5 e spero di passare buone feste. Ma che tristezza. Io questo quando l'ho letto, perché li ho letti per vedere se potessero essere mostrati. Io ho detto, no, Michio, io spero che Michio abbia passato buone feste. Non chiederglielo la prossima live. Domani glielo chiediamo, oggi, per le vende. Tra l'altro. Bella che mangia un bacino, la signorina Slayer, che è stata con noi compagnia, la Ruscia, che ci ha tenuto compagnia. Siamo all'interruzione pubblicitaria. Pioparco, devo stare... Posso, tipo, bloccare cose pubblicitarie? No, va bene. Comunque dovrei cambiare il subgoal, perché tanto ormai basta, direi. Tipo, posso cambiarlo in qualche modo. E non me lo fa fare, uffo. Aspetta, termino obiettivo, lo ricaccio. 60 sub. No, mentiamolo. Sì, 60, c'è scritto. Manteniamolo 60. Secondo Twitch, va bene. 60 sub al mese non ci arriveremo mai, raga, però, va bene, Twitch. Contento te, contenti tutto. Non ho punti abbonato, ma ti po'. Ok. E sì, sono sicurissima. Come obiettivo di questo mese, visto che comunque le live sono fatte, abbiamo la serata cinemino. Ci organizziamo con la watch party, quindi dovete fare, purtroppo, l'unico limite è quello, la sub o il prime. Cioè, comunque, dovete avere il prime, la sub la potete fare come volete. Lo so, Caz, non fare follie, per favore. Potete vedere con me film e serie tv. Per chi non ha il prime, potrà solo sentire i miei commenti. E' un limite di Twitch. E' giusto così, perché giustamente prime ci sta. Ok. Vediamo il prossimo mese di green. Cargrash, cosplay user, auguri missi, fa molto ridere effettivamente, cargrash era anche prima con noi a giocare. Mastered è quella che fu questing role, cioè questing d'Italia in gioco. Non si fa lo super bravo. Alexis Redstorm, la best tipi di sempre. Oddio, tutti mi dicono che assomiglio ancora a Dele, però ok. Auguro buona grazie. Auguro buone feste. Agiamo nell'ombra per servire la luce. Siamo assassini. Oggi era una la felpa di Assassin's Creed. Normalmente in casa, tipo, la felpa di Assassin's Creed Revelation. Molto bella perché ha il dettaglio dell'armatura disegnata. Molto particolare. Nella sua semplicità. Fra mi ha fatto morire, raga. Fra è artista. Ma che bello il Natale. C'è sempre qualcosa di speciale. Regali a tutti e anche a quelli brutti. Dolci e salati di chi li saremo mentati. Ma alla fine, chi se ne prega, l'importante è abbonarsi al canal di Biscopto e Richard non ha Http e entrare nel gruppo Telegram. Buon Natale. Fatto. Buonasera Denise. Ciao. Come stai? Oh ma che cari... Ma la tua è molto... Ma è stupenda, posso dirlo. Oh bella. Come stai tesoro? Tutto bene. Stiamo leggendo i messaggini di Natale prima di chiudere così le 12 ore. In maniera molto dolcina. Sì sì, la devi vedere, la ho giocata prima di giocare a Forspoken. Sì sì, la devi vedere, la ho giocata prima di giocare a Forspoken. Si vede che sono il mio limitino. Ci racconti? Abbiamo guardato tutti i messaggini comunque, ragazzi. I beni messaggini di Natalizia. Tanto vediamo Denise cosa fa il Twitch. Quattro mesi fa? Non quattro mesi fa. Ma no. Ragazzi, abbiamo fatto le 12 ore. Un applauso a tutti che vedete qui. A questo compimento della prima 12 ore. Spero si potrà, si possa rifare. Magari organizziamola, vediamo se parla di ferie o nel weekend, così potete essere un po' più presenti. O ridurrele e fare magari qualche live in più nel weekend di gioco. Anche con la chat. Ma ora è una settimana se mi scoccio di portare qualcosa in particolare. Vediamo, invece di portare dentro nuove serie, se deve riuscire un gioco nuovo, giochini con la chat. Mi scoperto che sono molto molto carini. Vi ricordo dove andare domani? Quindi oggi? A fare gli pure Slayer. La signorina Slayer Digital Art, che è venuta oggi con noi, fa gli anni. Fa la maratura di compleanno. Più che giusto, possiamo anche giocare giocini scemi di gruppo. Più che giusto, andare dalla signorina Slayer e farle gli auguri. Sì, sì, di Slayer. Ma anche di mio nipote, questa... Oggi, sì. Crio. Ha fatto la maratura di compleanno anche lui. Oggi, non lo sapevo. Infatti, ma è arrivato dopo la sua 12 ore. Cioè, i nipoti crescono, 18 anni così, mamma mia. Nipote 18 anni, il più grande. Sì, perché mi sento vecchia io. Immaginate un nipote che deve vedere una zia con la felpa di Stitch. Che gioca in giocini scemi con la chat. Cioè, io... Ai ai ai, tanto meno male che il mio nipote mi conosce, altrimenti... Eh. Quindi tesore, se iniziamo a parlare e non finiamo, Quindi, vi auguro una buonanotte. Io mi vado a cucare. Vogliamo fare un ride? O siete tutti stanchi? Andiamo tutti a dormire? Ditemi voi. Sennò io guardo se c'è qualcuno. Quest'ora non ho idea. Chi può esserci? C'è tita? C'è collega? C'è collega, volendo. Diciamo una cosa. Per chi? Ancora? Vabbè, non mi tiro strisce, però... Ok. Grazie. Dai, da butto di cerchi di live, di fila, uno un po' è stanco, quindi è il minimo. Però va bene, va bene. Io direi buonanotte, ragazze, allora. Grazie.